Raga, faccio questo breve video Però raga, che partita di merda Cioè, non si può giocare una partita così Non si può giocare una partita così Tu ti svegli al secondo tempo Ti fai fare il primo gol Subito al primo tempo Poi pareggi il Barcellona Comunque, va bene Ma cazzo Noi giocavamo a San Siro Dovevamo aggredire Dovevamo vincere questa partita A me non mi interessa, sì Perché comunque abbiamo subito un giro Non abbiamo subito il giro Abbiamo combattuto fino alla fine Già ci davano per scarsi Che uscivamo come una merda Non è che siamo usciti come una merda Però caspita Io mi aspettavo di più Mi aspettavo di più Cioè, è una cosa che io non accetto Non accetto Perché è stata una partita che poi al secondo tempo ha dominato solo l'Inter Ha dominato solo l'Inter Pali, traverse Di tutto, di tutto è successo Ma lo sbaglio più grande è stato il primo tempo Non ha fatto niente Doveva aggredire dal primo tempo Basta questo Perisic Levalo davanti Levalo davanti Levalo davanti Perché Perisic non serve a niente Non diamo solo la colpa a Perisic Tu mi vai a togliere a Politano Politano lo devi far giocare Fallo giocare Che me lo metti a fare a Versalico Fallo giocare E' levato a Politano E' finita la parte offensiva dell'Inter Sono deluso Veramente Sono veramente disgustato Avremo pure Saremo pure in Europa League Perché comunque non è che siamo Usciti completamente Perché comunque siamo in Europa League Però la maniera proprio Guarda che dà fastidio Che dà fastidio E' come noi abbiamo giocato Noi come Noi aspettavamo che il Barcellona vincesse Noi dovevamo vincere la nostra partita E non l'abbiamo fatto Non l'abbiamo fatto Abbiamo fatto pena Abbiamo fatto schifo Lo dico Ci siamo impegnati Strampegnati Mi faccio i complimenti con i giocatori Ma noi dovevamo vincerla A me non mi interessa Per me è come una sconfitta Noi dovevamo vincere la nostra partita E invece abbiamo fatto pena Abbiamo fatto schifo Perché noi Possibile che noi Non Una gioia non c'è mai No guardate ragazzi Sono deluso Ma veramente deluso Non si può giocare una partita del genere così Non si può Non si può Mettetevelo in testa Perché questa è una partita Che io speravo Avevo paura Ed eccolo qua Io me lo sentivo Mi dispiace Il primo tempo Non schifo Il secondo tempo Meraviglia Ma Poca Poca finalità Poca Niente Cioè Non c'è stata offensività Cioè c'è stata l'offensività Ma non hanno segnato Inutile che mi tiri 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 Ma non segni Poi mi arriva il gol di Icardi Di testa Cioè Hai fatto i gol di Icardi E sei fermata l'Ider Poi è pareggiato il Tottenham Eh no dai ragazzi Che sudo E dovevamo vincere questa partita Comunque Siamo in Europa League Aspettiamo il notario di finale Europa League Meglio di niente Però Sono deluso Amala E iscrivetevi al canale